Ciao amici, bentornati sul canale Il giornalismo del cuore, la nota soap opera ha saputo sin da subito conquistare i cuori di migliaia di telespettatori I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo per scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che vengono svelati puntata dopo puntata Quali saranno i prossimi risvolti della storia? Ecco le anticipazioni sulla puntata che andrà in onda l'11 ottobre 2022 Le anticipazioni del Paradiso delle Signore.Il 9 ottobre 1963 è accaduta una tragedia, la diga del Vaillant è ceduta e ci sono state numerose vittime C'è grande silenzio nel Paradiso, e tutti sono pronti a commentare quello che è accaduto e ad aiutare le popolazioni che sono state colpite Adelaide vuole infatti organizzare una raccolta fondi a cui dovrebbero partecipare tutti i cittadini milanesi appartenenti all'alta società Adelaide vorrà quindi chiedere a Umberto, tramite Fiorenza, di includere l'intervento della Banca Guarnieri Il commendatore rifletirà però di non voler aiutare la donna se non si recherà lei personalmente da lui per chiedergli una mano Umberto sa infatti perfettamente che Adelaide si troverà costretta ad andargli incontro e a fargli questa richiesta La situazione è quindi sempre in fermento, e tutti vogliono a tutti i costi aiutare le vittime del Vaillant Roberto porterà infatti Vittorio a candidarsi per avviare una campagna di sensibilizzazione che è stata indetta dal Comune di Milano Il Conte accetterà l'offerta, e vorrà senz'altro prenderne parte Marcello e Salvo saranno intanto in procinto di preparare le scorte alimentare da inviare alle popolazioni colpite In tutto questo caos, Matilde sparirà La donna deciderà infatti di andare via da Milano senza alcun motivo, e non confesserà a nessuno quando potrà tornare in città Tutti restano sconvolti dalla sua sparizione, compreso Vittorio, cosa le è successo? Perché ha deciso di punto in bianco di lasciare Milano. Non resta che attendere per scoprirne di più I fan non sono infatti più nella pelle e vogliono a tutti i costi scoprire quello che succederà, le novità non mancheranno di certo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti